Michelle Hunziker si ritrova nuovamente single dopo la fine della sua breve storia d'amore con Alessandro Carollo. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Le fonti vicine alla cocchia hanno rivelato a chi i motivi dietro la rottura, attribuendola principalmente alla distanza geografica e agli impegni lavorativi che hanno reso difficile il mantenimento della relazione. Nonostante apparissero sempre felici e complici, la presentatrice avrebbe deciso di dare massima priorità alle sue figlie, optando per la separazione. Questa nuova rottura segna un altro capitolo nella vita sentimentale di Michelle Hunziker, che dopo il divorzio da Tommaso Trussardi sembrava aver trovato un nuovo equilibrio affettivo. Tuttavia, sembra che nessuna donna sia riuscita a rapire il cuore di Trussardi dopo Michelle. La reazione dell'ex marito, Tommaso Trussardi, non si è fatta attendere. Prima che la notizia della separazione tra Michelle e Alessandro Carollo diventasse di dominio pubblico, Trussardi ha condiviso un post sulle sue storie Instagram. Il contenuto del Riel era una riflessione sull'importanza di mantenere il silenzio, con la didascalia, tre benefici di tenere la bocca chiusa. Questa pubblicazione ha suscitato diverse interpretazioni tra i follower di Trussardi. Alcuni hanno visto il post come una frecciatina velata nei confronti della sua ex moglie, suggerendo che potesse essere un commento sulla sua vita sentimentale. Altri, invece, hanno interpretato il post come un semplice consiglio generale sull'importanza della riservatezza. Resta da vedere se Trussardi commenterà direttamente la rottura tra Michelle e Carollo, ma per ora sembra aver scelto di mantenere il suo solito riservo riguardo alla vita privata della ex moglie. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news, lascia un mi piace al video, e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere, e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.